cari figlioli salve ben ritrovati oggi vediamo un altro scudo uno di quelli scudi che qualche mese fa ormai quasi due mesi fa un mese e mezzo fa sono stati potenziati ossia sono stati adeguati al livello di caos in cui giochiamo qualche video precedente abbiamo visto il nova quello che lasciava un lascia un botto di esplosioni infuocate questa volta invece vediamo il red suite che lasciarsi una nuova come vedete un poca roba 19.000 quando solamente quando lo scudo si scarica ma lascia anche un danno costante passivo di radiazione 2700 al secondo non è assolutamente poco tenete conto che questi sono i valori con caos 0 invece sono adesso sono stati aggiornati in base al nostro caos se giochiamo caos 10 dovrebbe essere un per 34 se non ricordo male scudo decisamente piccolino 13.000 non è tanto e non ci proteggerà tantissimo ma questo implica anche il fatto che ci sarà comunque una nuova ad aiutarci ogni volta che si scarica in questo caso lo scudo che ho trovato io mi dà anche un 30 20 per cento di colpo bonus maggiorato nel momento in cui lo scudo è al massimo la consacrazione è quella che è uno scudo abbastanza difficile da trovare io ho farmato per un'ora e ne ho trovato solamente uno quindi non ho avuto modo di trovare una buona consacrazione essere sincero non so neanche quali altre consacrazioni ci siano vi faccio vedere dove farmarlo andiamo sul necrotafei aspettate che giro la mappa in questo modo e dobbiamo farci un disastro di strada anzi aspettate che la metto così va che mi piace di più allora vediamo un pochettino se mi ricordo bene oddio no non mi ricordo ah sì ok noi partiamo da qua dobbiamo farci tutta questa strada che vedete quella evidenziata in azzurrino abbiamo il nostro respawn qua e tutte le volte per andare a farmare il boss dobbiamo andare qua giù dove vedete questo simbolino qui quindi dobbiamo farci tutta questa strada è pieno di nemici ed è decisamente una rottura di scatole adesso vado qua e poi vediamo insieme come si fa benissimo mi sono fatto tutta la strada ora ci troviamo qui qui abbiamo la nostra colonnetta per il respawn e tutte le volte dobbiamo farci la strada che vedete adesso mettetevi magari una mod che vi velocizzi come sto facendo io qua saltiamo e ho sbagliato se non salta aspettate vi faccio rivedere va giusto per vedere come fare un piccolo taglio ma non è che si risparmi quel granché qua nell'angolino ci aggrappiamo ok e zompettiamo come delle cavallette andiamo tutto zompettando così qua vedete spawnano nemici se andiamo velocemente non ci rompono le scatole più di tanto scivoliamo come se non ci fossero domani grattugiamoci tutto il fondoschiena ok arrivato questo punto siamo tranquilli lì tanto per incominciare c'è sempre una bella cassa tante volte guardate lì spa un'altra cassa quella tutta circondata dei dei cristalli eridiani eridium e loro due ci possono droppare lo scudo quindi famosi a fuori il più grosso che resiste ok di solito questo incomincia a correre velocissimo ed è faticoso riuscire a colpirlo droppono no vabbè che botta di culo l'hai trovato subito non ci credo allora come vedete la dimensione è sempre quella però infligge il danno è uguale riflette però questa volta 5.000 di danni se ti attaccano corpo a corpo più i 19.000 quando si scarica quindi forse anche un attimo meglio entrando uscendo da orso di ferro ci crea una nuova da 74.000 che non è male io direi quasi quasi me lo cambio ecco mettiamoli in paragone ritardo leggermente più lento la ricarica ma siamo lì la cosa interessante di questo scudo che credo che sia sempre esclusivamente radioattivo non vorrei dire una sciocchezza non ho approfondito io l'ho sempre solo visto radioattivi ne ho visti tre e forse ne avevo un altro prima livello 50 quindi quattro sempre solo radioattivi e ci danno il 100% di protezione quindi davvero tanta roba vediamo anche in futuro con un boss è un mini boss che c'è nel dlc4 che tornerà davvero molto comodo io direi che siamo anche nel posto giusto per testare lo scudo per far vedere un pochettino come funziona usciamo rientriamo anzi aspettate che mi guardo già che ci siamo buttalo via qua c'è una legge no non mi interessa ecco ci viene anche droppato ma siamo stati fortunatissimi sto giro lo spirit al drive per amara che non è affatto male direi poi ci prendiamo anche questa da pensare che l'altra volta ho farmato un'ora per trovare un cacchio di scudo mi hanno mi hanno droppato un botto di leggendarie però il red suite ci ho messo davvero una vita questa cassa tante volte droppa leggendari quindi tanta roba usciamo rientriamo bene allora abbiamo lo scudo vediamo se c'è qualcos'altro che mi incrementa il danno no tecnicamente nota allora andiamo vicino a qualche nemico qua ci sono gli animaletti che perlomeno non ci sparano quindi abbiamo qualche secondo in più per notare al meglio l'effetto dello scudo o ce n'è uno no quello è cattivo è proprio tutti lui no però oltretutto c'è la corazza e la radioattività e meno efficace contro la corazza eccolo qua allora vediamo un pochettino vediamo quanto danno li stiamo facendo guardate il colore arancione 30 mila e fuoco mentre quello giallognolo e radioattività facciamo 144 mila di danno così senza fare nulla guardate con gli scende giù la salute e anche quando siamo a terra adesso purtroppo non l'abbiamo visto quando siamo a terra e arrechiamo danno a tutti i nemici che abbiamo vicino quel danno li serve per mantenerci in salute quando siamo in lotta per la vita grazie a questa abilità qui questa qui per intenderci e quindi anche in queste situazioni difficili torna davvero molto comodo poi è decisamente meno efficace contro questi che hanno le corazze ecco questi sono i peggiori però quello li facciamo 100mila ovviamente essendo un danno può essere migliorato quindi andiamoci a prendere un artefatto simile a questo guardate danno aura più 50 per cento quindi fa al caso nostro va a bustare il danno del nostro scudo in più fortunatamente abbiamo anche un danno da radiazione più 24 per cento poi non so onestamente che cosa siano in danno impulso aura e raggio impulso aura non saprei se qualcuno di voi lo sa magari se certo magari lo può scrivere nei commenti sotto però guardate mettendo lo scudo qui dai 100 quant'era 140 vediamo questo quanto li facciamo passiamo a 205 mila 205 mila più 30 mila si guardate 205 mila più 30 mila di fuoco non è assolutamente poco come danno passivo questi mi si sono esplosi addosso eccolo qua un altro guardate non gli spariamo neanche un colpo pensate anche quando magari cadiamo in lotta per la vita e siamo circondati da 45 nemici quanto danno riusciamo a fare ora senza neanche sparare un colpo se poi troviamo non so se esiste una mod di classe che va ad aumentare danno radiazione non lo so se c'è non estamente non l'ho mai trovato però potremo ancora andare a bustare ulteriormente e oltretutto c'è la nuova non dimentichiamoci di questa nuova di 20 mila quando lo scudo si scarica completamente vediamo un pochettino se riusciamo il problema che noi avendo solamente un punto di salute quando si scarica andiamo in lotta per la vita però vediamo ok siamo giù eccola qui la nostra nuova non ho visto però quanto abbiamo fatto di danno però ha dato una bella botta quindi direi anche questo scudo è assolutamente da farmare ricercare devo dire che io nello scudo che avevo fino a poco tempo fa l'avevo trovato il giorno successivo al farming dentro una macchinetta che rivendeva quella di erle quella che accetta solamente eridium per intenderci quindi anche quelle magari buttateci un occhio ogni tanto si trova qualcosa di buono è un ottimo scudo da tenere poi in futuro vediamo anche un utilizzo particolare spero che il video vi sia piaciuto se così mi raccomando lasciate dei like e noi ci vediamo prestissimo un altro video ciao a tutti grazie grazie